Se desideri che il tuo quartiere non muoia, acquista local. Se desideri invece che la tua bottega resti aperta, inizi a vendere online. Perché i consumatori preferiscono acquistare sulle grandi piattaforme? Viviamo in un mondo ormai interconnesso nella sua globalità. Questo ha portato con sé tutta una serie di vantaggi, i quali spaziano da l'e-learning, le videochiamate, l'e-commerce. Grazie a tutte queste nuove possibilità, i confini del business si sono praticamente dissolti. Le nazioni hanno mantenuto, almeno per il momento, i propri confini geografico-politici, ma le merci no. Grazie agli accordi e ai trattati sottoscritti ormai da qualche anno a questa parte, la competitività nel business ha raggiunto livelli mai visti prima. Questo grande tema, al quale dedicheremo molti video, avvantaggia ovviamente i consumatori, ma penalizza le aziende che restano con il proprio mindset puramente local. Perché? Beh, per questo articolo dal mucchio dei perché ne selezioniamo solo tre. Prezzo, praticità e scelta. In merito al primo c'è poco da fare. Qui le democrazie nei prossimi anni dovranno affrontare l'arduo compito di creare le migliori condizioni al fine di tutelare l'economia interna. E questo non è il mio mestiere e non li invidio. In merito alla praticità, invece, mi sento un po' più confident nel dirvi la mia. Possiamo provare a ragionarci insieme ponendovi una domanda ben diretta. Perché io consumatore dovrei dannarmi a navigare sul tuo sito internet quando lo capisci solo tu e chi te l'ha fatto? La soluzione per un potenziale cliente è io vado su Amazon e non perdo tempo a sclerare con la tua user experience da panico. È molto forte, lo so. Sfortunatamente sul web non sempre gli articoli e i video molto lunghi pagano quindi per oggi scelgo di abbandonare per un attimo il politically correct. In merito alla scelta è molto semplice. Vuoi mettere andare sul tuo sito e-commerce e trovare solo i tuoi prodotti e invece andare su una piattaforma e trovare tutto il resto del mondo? Quindi, se desideri dare un nuovo futuro alla tua impresa e non puoi abbassare i tuoi margini prova almeno a renderla più semplice da trovare per chi ti cerca. Molte persone amano acquistare local e sono molto sensibili al tema. Sfortunatamente però non sempre trovano vicino a loro quello che stanno cercando. Quindi, secondo voi, dove vanno? Eh, sulle grandi piattaforme vanno, ecco dove. Vi prometto comunque che riprenderemo questo argomento più avanti. Oggi vi lascio con un piccolo aforisma che insieme al team abbiamo scritto in agenzia. Se desideri che il tuo quartiere non muoia, acquista local. Se desideri invece che la tua bottega resti aperta, inizia a vendere online. La strada giusta a volte sta nel mezzo.